Papà, volevo chiederti una cosa. Cos'è la politica? Guarda te lo spiego con un esempio, io che lavoro e porto a casa i soldi sono il capitalista, tua madre che li amministra e il governo, la donna delle pulizie e la classe operaia, tu che ormai hai qualche voce in capitolo sei il popolo, tua sorella che è appena nata e il futuro. Ok grazie papà. Papà, apri. Lucia piange. Mamma. Sono piccolo, ma ho già capito cos'è la politica. I capitalisti, fottono la classe operaia, il governo dorme, il popolo non lo ascolta nessuno, e il futuro, sta nella merda. No, no, no.